Caro telespettatore, non vorrei che mio figlio fosse gay, tutto quanto, anche perché non ho figli maschi, forse ho due figlie femmine, purtroppo anche tra le donne esiste l'omosessualità, preferirei moltissimo che le mie figlie crescessero in maniera normale, facessero una vita normale e si formassero in una famiglia normale. Se poi dovessi vedere che le cose non vanno tanto bene, le farei curare, perché chi è omosessuale fa una scelta che è contraria a quella, questa è un'opinione mia ovviamente, fa una scelta che è contraria a quella che la natura gli ha indicato. Se hai degli ormoni maschili, se hai un genoma di tipo maschile, se hai gli cromosomi X e Y invece di avere gli XX, fai il maschietto, se hai gli XX fai la femminuccia. Il contrario è un po' fuori natura, probabilmente c'è qualche problema di tipo, ci sono dei problemi, ci sono delle possibilità anche di composizioni intermedie di questi assetti genetici, ci sono per esempio gli XXY, ci sono gli XXXY, ci sono delle aberrazioni genetiche che determinano il fatto che non si sia né perfettamente uomo né perfettamente donna, ma appunto le ho chiamate aberrazioni perché sui libri sono descritte come delle patologie, non come una cosa normale. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di scelte fatte per un gusto personale e niente a che dire sul gusto personale, per l'amore di Dio, ogni omosessuale può vivere la sua vita sessuale come meglio crede, come meglio ritiene, se gli piace, piace. Non è che io posso giudicare se azzecca o se sbaglia. Quello che intendevo dire, caro telespettatore, è che non posso pensare che una coppia gay, e questo era l'unico appunto che facevo però il più pregnante alla legge sui PAX, non posso pensare che queste famiglie possano regolarmente adottare dei bambini, perché il condizionamento psicologico sarebbe tale e così forte che questi bambini avrebbero sicuramente dei problemi, se si trovano due papà, uno che fa la mamma, uno che fa il papà, non si è capito bene come funziona, è così se fosse adottato da due donne. Quindi la legge sui PAX, sull'equiparare le famiglie omosessuali alle famiglie normali, io sono perfettamente contrario. Per fortuna un appello ce l'ha fatto il Papa, importante, importante, i PAX, no! Emma Bonino scordate di PAX, perché se si fanno i PAX qua succede una rivoluzione e voglio vedere come ve la mettete.